Quindi ho gli occhiali, guardate tutti gli occhiali di Valentina ho una roba pazzesca, grazie, grazie Valentina ha due parole Salve, io sono Valentina Rosantis e ho cominciato anch'io per caso a lavorare con queste due ragazze e volevo risparmiare, ma tanto ormai l'avete capito tutti e sta andando bellissimo, mi trovo molto bene con loro anche se in realtà la mia professione non è proprio inerente Rivela la tua professione? Faccio la designer, però ci devi svelare gli occhiali Gli occhiali saranno per quello, secondo me Grazie Grazie ancora Ovviamente Valentina si occupa delle altre cose della Roma Che prima è stato un argomento Allora, che ci manca? Abbiamo le nuove Giuseppina Citera Che è entrata da poco, tra l'altro lei è una ricettrice appunto di passione del calcio Quindi diciamo sei con il 3 d'unione Sei il 3 d'unione, tra i gol di tacco e passione del calcio Sì, l'unione è in mezzo Esatto, lei è in mezzo Parlaci di te, Giuseppe Mi è del progetto di calcio, quindi accetto Accetto, lei è in compito, lei è in compito, lei è in compito Per questo è parte anche del film Ed è un piacere per te È un piacere anche per noi Non so se è rimasta qui con noi, Moana, Moana, Pezziani Ci sta? No Sto andato via Sto andato via Le vogliamo salutare tutte Siamo Martina Martina che è la nostra Martina che è veramente molto brava Io l'ho definita Io l'ho definita il nostro peccante di razza E poi abbiamo Barbara E Sandra che purtroppo sta in Francia Non è più da lì anche in Roma Ma è di Roma Mirella Mirella che è la nostra L'attrice del corsi Facciamo un po' di spettacolessi con Mirella Oggi è uscito l'articolo riguardo Sala Nucessi La ragazza è assicurata Perché pare che non renda a letto Molti corsiatori hanno questo problema L'intimità Bravi sul campo Ecco Esatto Diciamo, Giussi, io e te non avremmo mai questi momenti Ma no Assolutamente Di deleganza di una donna Di dire una cosa del genere del suo ex compagno Assolutamente È pietoso È pietoso Però è divertente di sparlare anche di queste cose E cosa è proprio Però Giorgia Io non mi vedo assolutamente Non si può scadere 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 Diciamo che bisogna saper distinguere nella vita il personale dal professionale Non tutti sono in grado di darlo Quindi è lì che si distingue il signore o la signora dal quinto uomo Come diceva la sciascia Ci sono l'uomo, gli uomini, gli uomini, gli uomini Qua era qua Ecco Questi si saranno qua, qua, qua Insomma Soprattutto per farti bello Allora, penso che abbiamo detto tutto Se vogliamo salutare Io vorrei fare un ringraziamento particolare A Mauro Nardi Che mi ha pettinato E sarà il parrucchiere di Codati Come vedete Non è uno nato ieri Nel senso che Ha fatto una pettinatura veramente strabiliante Sarà il nostro parrucchiere di fiducia Abbiamo bisogno di un'estetica Vero, non ora? Anche se le rute bellissime Quindi diciamo Io le voglio ancora più belle Cioè io dico sempre Noi le scegliamo prima il lutto o dalla foto? Dalla foto Per non sbagliare Il lutto o dalla foto? Assolutamente E la foto poi vediamo come è scritto Sprezziamo ovviamente E ci teniamo che Soprattutto la professione Anche l'occhio Assolutamente E soprattutto ringraziamo voi Perché se questa sera è stata possibile Perché voi siete qui Ringrazio Max Monè Il proprietario di Angeli Rocchi Nel ci ha ospitato E è stato altrettanto collega Appunto a squilarci qui Per scommettere Perché non vediamo nel pallone Non è facile di questi tempi Scommettere sul form E diamo E diamo Se comunque Ancora Sconosciute Per il corretto Assolutamente Diamo un appuntamento E sicuramente Grazie a tutti voi Grazie a tutti voi Non voi che siete venuti Stavano Inizio di passione Di calcio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti